Ciao a tutti stelline e stelline! Ciao a tutti stelline e stelline! Io sono Ginevra del canale Poivre di Stelle e lei è la mia amica e anche l'amica della mia mamma Raffa. Sì! Cosa facciamo di bello? E oggi giochiamo in Winter Pop, un gioco dei vecchi tempi a cui giocavano la mia mamma e Raffa insieme. C'è anche un po'. E quelle sono le mie scarpe per tutti gli amanti delle scarpe e dei gatti. Bene, ma questo gioco è bellissimo! Eh sì, infatti. Ciao gatto! Dice, tic tac, tic tac, componi la faccia prima che sia troppo tardi e tutto salta in aria. Carica il segnatempo, scegli una faccia completa la prima che sia troppo tardi. Componi, veloce, prima che salta in aria! Va bene. Allora, apriamo questa scatola. E qua c'è da assemblare qualcosina, ma state tranquilli, è facilissimo assembrare. Facilissimo. Ecco. Ecco fatto. Già pronto! È già pronto così! Allora, qua c'è il timer per farlo partire e questo, come lo chiamiamo? La freccia del tempo. Sì, brava! Secondo me è da sistemare ancora un po'. Oh, certo, certo, certo. Penso così. Eh no, scusami. No, non parte! Eh, dobbiamo spiegare un attimino a tua mamma che ha dimenticato che... Ecco, no, perché la Ginevra... No, ma non era inserito bene. Ah, non era inserito bene! Ok, a posto, posto. Vabbè, adesso vediamo. Anche perché questo gioco della ditta Harbert, che non esiste neanche più, mi sa, ha quanti anni ha? Trenta. Eh, almeno trenta. Almeno trenta, ma noi andiamo avanti a dire qualità. No, di più, di più di trenta. Ed è made in Italy, ovviamente. Sì, cosa che, vabbè. Cioè, siamo in Italia. Eh già, siamo in Italia. Quindi made in Italy. Mica in Germania. Eh, eh. E ci sono alcune carte. Bene. Alcune carte. Alcune carte. Alcune carte. Alcune carte. Ti aiuto anch'io. Fine delle carte. Fine delle carte. Allora ci sono le carte sezioni papapoppe, quelle medie. Parli a vedere. Le sezioni delle carte. C'è anche un naso insieme alle carte. Oh. La sezioni delle carte. Oh. La sezioni delle carte. Nonno poppe. Che è quella difficile. Il? 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 Oggi va così. E la sezioni delle carte bimbo poppe. Quelle facili. Aspetta, aspetta. Io gli ho gli occhiali come la Ginevra. Diciamola alla zia Raffa di tornare dalla Germania così si inserisce in tutti i tuoi video. Sì. Sarebbe bello. Chi lo sa? Magari è domani. Due paesi di amici. Mamma, guarda che stanno andando. Ok. Adesso come? Come? E adesso dobbiamo scegliere una delle sigli. Allora, scegliamo un colore e un numero. Ho un'idea. Hai un'idea? Dai. Facciamo così. Mischiamo le carte. Quello che ci capita capita. E facciamo così, ok? Ti vado anche un po'. Carini. Mettiti anche te gli occhiari. Carini. No, topolini. Carini. È un topolini carinissimo. Ah! Adesso è prontissimo, ragazzi. Mettiamo così, 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 così. Cioè, ragazzi, ma queste carte hanno veramente... Devo prenderne una io o tu? O la mamma? Come faccio? Come fa? La mamma fa il video. Tu! Io. Ok, uno, due, tre. Questa qua. Vediamo. Media! Papà pop! Che aspetta, è difficile. Qua dentro abbiamo tutte le cose per fare il nostro papà pop. Di il nostro papà. E adesso... Pronti. Direzioni dalla regia ci dicono che dobbiamo darci una mossa. E adesso si inizia. Ok, si inizia. Devi mettere... Allora, prima dovete caricare. Esatto. Carichiamo la freccia del terapolo. Tu non ti ricordi? Io sì che mi ricordo, ma qua c'è Ginevra che va veloce come la luce. Abbiamo caricato la freccia del tempo. Ok, l'abbiamo caricata. Poi si dà via. Via. E iniziamo. Perfetto. Su, 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 su. Acchi azzurri. Su, su, su. Su, su. Su, su, su. Su, su, su. Questo è un occhio verde, non lo voglio. L'occhio azzurro. Dai, va, oddio. E questo è il cappellino, il cappellino. Oddio, aiuto. Tono, occhio azzurro. Occhio azzurro, occhio azzurro. Tieni, tieni il naso sbagliato. Quello è il naso sbagliato. Tieni il naso giusto. Dov'è? La bocca, la bocca, questa è la bocca da femmina, è sbagliata. No, è sbagliata. Questa. Questa, sì, quella. Oh, guarda, la barba. No. Sì, sì, la barba, la barba. Sì, ecco. Basette e baffi. No, non suona, hai ragione. Questa è la basetta. Ok, una, una, una. Eh, ma l'altra mi sa che era la basetta. No, 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 ci sono tutti i pezzi. Oddio, oddio. No, non ce l'avete fatta. Ma no, visto che non era inserito bene. Mister Pop, tu devi far vedere a tutta la gente come esplodi. Ok. Vabbè, diciamo che la molla, magari dopo 30 anni di utilizzo, ha deciso anche che... Il gatto è totalmente indifferente. Ve la bocca? Anzi no, ci sta guardando un po' come dire, guarda quelli che urlano. Ecco. Eh, sì. Vabbè. Eh, sì, il gatto è sì. Non ce l'avete fatta. È andata male. Vabbè. È andata malissima. Malissima è andata. Vabbè, la prossima volta possiamo giocare a scarabèo un po' più tranquillo. Sì. Volete provarne uno di quelli facili? Sì. Dai. Sì. Al volo. Ah, uno, guarda, subito. Questo, questo, questo. Questo. Il bambino Pop. Abbiamo il bambino Pop. Che è il mio dino Pop. Ciao, il mio dino Pop. Oh, signor. Ma quanto è bello questo micettino. Comunque, la prossima volta forse giocheremo a scarabèo, se verrà. Come se verrà? La raffa viene. Sì, è ovvio. Ma quando ci sarai? Quando il clinico mannover mi dà le ferie. Pop, ma che fai? Che fai? Volo, volo, volo. Partita al volo. Partita al volo. Ok, via. Vabbè, ma qua il volo è molto... Allora, mettiamo qua il bambino Pop. Carichiamo. Mi carichi. No, stoppa. Prima devi stop. Devi schiacciare stop, scusami. Qua, aspetta. Ehm. Perché? Non lo so, perché? Non ho tanto per rinserirla bene. Zia Raffa, inserisci tu la faccia. Basta, no, perché poi si rompe. La faccia la inserisce la zia Raffa qua. E poi fa così, qua sotto. Se schiacci qua è meglio qua sotto, perché sennò qua si rompe prima o poi. Bene. Ok. Possiamo andare via? Ok. Andiamo via. Via, via. Tieni, sopracciglia sbagliate. Il cappellino giusto. Tieni, bocca, bocca sbagliata. Ma tu devi guardare. Posso farlo io? Non ne può più lei. Questi sono gli occhi giusti però. Questo è tutto sbagliato qua. Non c'entra niente. Questa non lo vogliamo. Questo? Occhio azzurro manca. Dov'è l'occhio azzurro? Io me lo vedo. Questa è giusta, Ginevra? Quella, sì. L'occhio azzurro l'avevi usato prima. È qua, è qua. Vai, 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 vai. La bocca, la bocca. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, stoppettiamo. Ma però facciamolo saltare che è divertente. Eh, ma allora scusami, eh. Sì, vai, è divertente, dai. Dai. C'è il gatto che ci sta guardando con una faccia? Vero gatto? Ci compatisce un po', ma... Dategli un passito. Dai, sì, dai, è bello. Dai, dai che sei carino. Con quel cappellino. Massi, guarda. Ah, ecco, va, va, va. Ah! Non abbiamo prendo un naso e una bocca. Non abbiamo prendo un naso e una bocca, vabbè, dai. Ecco, vabbè. È stato bellissimo. È stato... Ma facciamo vedere questa scatola stupenda di trent'anni fa. Di più di trenta. Ma vabbè, adesso non esageriamo. Ginevra, prendilo da qua sotto. Prendilo da qua, che è più facile, se no si rompe. Ecco, visto? Hai capito? Ha trent'anni. Ha trent'anni. Troppo più di trenta non è che ne ha, vorrei dire. Giusto? Sì, perché... Non esageriamo con questi numeri. Se avessi giocato da sola, la Raffa non avrebbe... Non vi avrebbe... Non vi avrebbe... Inghietta, già mai non vi avrebbe... C'è anche una parola. Allora, se avessi giocato da sola, la Raffa, se non ci sarebbe stata a farlo con noi, io non ce l'avrei fatta neanche un po'. Oh, qualche bella questa bambina. Me la posso portare in Germania? No. No, come no? Un pochino. Guardate però col bello. Vogliamo salutare? Mi sembra che dalla regia ci dicono che il tempo è scaduto. Ciao a tutti, stammine e stelline! Un bacio a stellare da parte mia. Ed è la Raffa. E uno da parte di Hoppe. Dillo. Ciao! Ciao, ciao!